allora buongiorno oggi sono incredibilmente felice di fare una nuova live reaction una live reaction anche particolare perché ho detto cerchiamo qualcosa a cui reagire ho cercato nella rete su youtube un video scrivendo semplicemente la parola di ricerca trading online e ho trovato un signore con un canale che è smettere di lavorare 101 mila iscritti quindi evidentemente dice anche delle cose sensate credo perché tanta gente lo segue e il titolo è fantastico che non poteva essere che lui il titolo del video a cui reagire non devi mai fare trading online ho detto cazzo bellissimo il video non l'ho visto la prima volta che lo vedo e insieme a voi lo reagisco ma dopo la sigla quindi teniamo sulle cuffie e vediamo un po cosa dice questo bel signore con un bel golfino col cappuccio ma mi sembra un po un barbù però vediamo per nessun motivo al mondo devi fare trading online e la madonna cominciamo subito con la frase di impatto per nessun motivo al mondo io cosa ho fatto vabbè vediamo sono curioso è per nessun motivo al mondo lo devi fare e adesso in questo video ti spiegherò perché è una cosa incredibilmente sciocca dare retta a quelle persone che cercano di spiegarvi come fare trading online su questo allora che sia sciocco io penso che tra quelli che spiegano come fare trading online ci sono tanti cazzari e tanta gente brava no tanti cazzari e poca gente brava ma c'è anche qualcuno di competente l'ho già detto ho fatto anche il nome per esempio paolo serafini magari con qualche corso costoso ma magari anche accelerato i corsi buoni non costano poco ve lo dice uno che ha fatto dei corsi minimo 1000 al giorno se è buono se non è una cazzata poi voglio dire uno che vi spiega come guadagnare dei soldi cosa volete che vi chieda 100 euro è ovvio no i soldi con il trading online spargendo poi disinformazione ci sono solo svantaggi a fare trading online lo dice per la seconda volta vorrei andare un po avanti per capire quali sono 85 per cento quasi il 90 per cento delle persone che si approcciano al trading online perdono non guadagna niente no no perdono perdono proprio non è che non guadagna niente e prova a chiederti il motivo cioè nell'arco di un anno ha perso tutto e smette di fare trading esattamente questo lo dicono i numeri lo dicono migliaia e migliaia di dati questo non vuol dire che perché 95 per cento delle persone perdono cioè tutti perdono 95 per cento quindi pensi di essere più furbo e più bravo degli altri giusto la statistica non gioca scusate la statistica non gioca a tuo favore non sei più furbo degli altri evidentemente devi fare qualcosa in più che gli altri non fanno per vincere no e la penso così però è vero 95 per cento delle persone perdono ma non solo l'ho detto anche un altro video non mi ricordo quale e non mi ricordo neanche la fonte però l'ho letto da qualche parte di una fonte autorevole il 95 per cento anche delle start up chiudono o falliscono pensi di essere tu quello che ad un certo punto dal oggi al domani oppure leggendo due libri apri un conto di trading e fai tanti soldi e ci guadagni beh giusto non funziona così nella stragrande maggioranza dei casi hai molte più probabilità di perdere tutto piuttosto che guadagnare dovresti essere un po più preciso hai molte probabilità di perdere tutto se non sai un cazzo come te cioè se tu dici io adesso prendo e perché sono bello faccio trading online perderò e questo è molto molto probabile direi quasi sicuro matematico direi addirittura è chiaro che ci vuole un percorso di un certo tipo non puoi pensare che tutto così perché per la tua bella faccia arrivano i soldi dal cielo il motivo è che il trading online è incredibilmente difficile vero è molto difficile devi cambiare il tuo modo di pensare alle cose vedere esattamente con i tuoi occhi da fare incredibilmente difficile da portare avanti ma soprattutto perché viene spacciato molto spesso come un metodo per guadagnare facilmente invece poi si scopre che in realtà è un modo di guadagnare che ti tiene impegnato tutto il giorno perché devi stare appresso alle notizie perché devi no allora ecco questo qua questo signore dice una cosa bella è una cazzata che devi stare tutto il giorno attaccato al grafico non è vero devi cambiare il modo di pensare è una cosa estremamente difficile e si impara ma non tutti sono portati io sono d'accordo su questo aspetto però ecco questo causa qua non è vera e si vede che lui evidentemente non fa trading online ma sta parlando di trading online caro mio dovresti almeno averlo fatto per un po perché stare tutto il giorno attaccato al grafico non è detto che uno lo faccia anzi la maggior parte dei trader privati o come si suol dire con un termine molto di moda retail fanno swing opposition trading quindi trading che dura da giorni a ore ore o giorni ma non fanno trading di scalping quello che sei sempre attaccato a guardare il grafico io stesso due allievi e gli insegno di fare l'operazione quando il momento è chiudere sapere quando escono i report sui mercati perché devi conoscere diciamo cazzate quelle robe lì servono poco per operare e gli andamenti perché devi parla di cose che non sa ha ragione a sconsigliare il trading online attività molto difficile è un lavoro a tutti gli effetti e come tutti i lavori va affrontato in maniera seria è un lavoro non è anche dato tutti lo ripeto anch'io ma attenzione ha detto una cazzata ha detto una cazzata perché non è proprio così cioè fare micro trading cioè devi riuscire a fare compravendite sul breve periodo perché altrimenti no 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 anzi si impara proprio sul lungo periodo perché prima di tutto sai tenere le posizioni un po non si parlerebbe di trading ma si parlerebbe di investimento adesso parleremo di questa differenza e quindi si scopre che esatto trading e investimento sono due cose diverse d'accordissimo c'è una differenza direi che non puoi fare il paragone tra trading e investimento che nella grande maggioranza dei casi si deve comunque stare attaccati ad un computer molte ore al giorno quando i mercati no sono aperti e quindi poi si finisce per sostanzialmente lavorare 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 magari lavorare sì questa volta è vero un trader lavora si fa un culo così anche certo le soddisfazioni possono essere tante o poche a seconda del capitale che tu hai a disposizione ma ti fai un culo così sono assolutamente dell'idea che allora dobbiamo parlare di due cose diverse uno è si può fare trading online c'hai delle possibilità di successo detto così su due piedi senza studiare molto poche quasi nulle puoi pensare di dire questo non è un lavoro e non devi lavorare no devi lavorare quindi facciamo chiarezza da casa magari lavorare con dei ritmi differenti da un normale lavoro però è molto diverso da come ce lo raccontano si scopre che no è un lavoro ed è anche un lavoro molto stressante perché ci stai mettendo dei soldi che sono a rischio quindi è vero un lavoro stressante finché non ci fa il callo diventa difficile sostenerlo quindi questo è un altro degli aspetti per cui la gente perde facciamo chiarezza e diciamo è un lavoro quindi ha detto bene che è un lavoro e io lo sostengo su questo però ha detto delle diverse imprecisioni come che i dati macroeconomici e seguire notizie ma c'è chi le seguo e c'è chi non le seguo io non le seguo è molto diverso da come ce lo raccontano cioè non è un guadagnare molto facilmente senza fare niente ma è un lavoro a tutti gli effetti incredibilmente difficile e incredibilmente stressante quindi questo è il primo motivo per il quale difficile e stressante giustissimo non ha nessun senso secondo me vado un po avanti non ha nessun senso allora no allora il fatto che la cosa sia difficile non vuol dire non poterla fare chiaro questo concetto cioè anzi per quello che è il mio carattere personalmente io sono uno che tende a fare proprio le cose difficili che sia chiaro questo ma in realtà nessuno ti dice una cosa che è la cosa più importante che devi sapere che è questa se tu fossi un grandissimo investitore i numeri dicono che ecco bravo stai paragonando proprio gli investitori al trading che è un paragone inutile e i più bravi investitori al mondo tralasciando appunto i diciamo i top di gamma che hanno fatto numeri magari anche vicini al 30 per cento al mese ma mediamente le persone che riescono a guadagnare col trading online ottengono un guadagno che si può attestare tra il 5 e il 10 per cento mensile del capitale no questo discorso è impreciso non si può stabilire all'inizio quanto sarà il tuo guadagno quindi non puoi dare delle cifre così perché dipende dalla strategia dipende dalla tua capacità dipende dante cose anche se tu sei già preparato allenato però non puoi dare una cifra precisa io direi che un 5 10 per cento mensile è verosimile anche meno perché direi che il primo anno di uno che inizia punti al 50 per cento all'anno che già un buon prendere quasi da istituzionale ma non puoi fare un ragionamento del genere perché questo ragionamento è sbagliato dipende dalle metodologie che usi da tanti fattori no non si possono dare delle cifre così campate per aria mi dispiace vestito quindi ok se sei veramente bravo vado un po avanti no non è vero apri un conto da mille euro cioè le grazie al cazzo con mille euro cosa cazzo vuoi fare vuoi camparsi parliamo di cose vere verosimili non si può dire che con mille euro c'è vabbè vediamo non so però inizi a fare trading online e sei bravissimo e fai il 10 per cento al mese il 10 per cento al mese di mille euro sono 100 euro grazie per aver fatto quindi io non penso che tu riesca a vivere con 100 euro al mese facendo 3 è ovvio che questo discorso è un discorso che non sta in piedi io dico che il minimo sindacale per iniziare sono 10 mila questo quello che mi consiglio io poi chiaro 10 mila si concentra sul 5 mila in un anno perché fa il 50 per cento in un anno chiaro che non ci vivi con 5 mila euro in un anno quindi allora parliamo di cose concrete è chiaro che i capitali servono però per iniziare devi pensare anche un percorso fattibile percorribile anche in questo caso ci vuole preparazione e buon senso pianificazione quindi parliamoci chiaro trading online e quindi se ti fai due conti cini capirai che ti serve un capitale che sia molto elevato di poter mangiare veramente molto elevato no basta avere anche 20 mila se fai scalping ma ci vuole esperienza tante esperienze come trading online perché poi devi sapere che ci ripagare le tasse sui soldi che guadagni quindi non solo tasse pensione non è così semplice poi devi prelevarli anche spesso non è che c'è il capitale composto così che arriva per grazia di dio sono ragionamenti da fare ai due conti ti serve un conto corrente diciamo per stare tranquillo avere una certa marginalità devi avere dei soldi a parte che sono il tuo cuscino economico se no sei in tilt automaticamente verissimo vado avanti un pochettino il trading è basato su un vantaggio statistico quindi le cose possono andare bene o possono andare male no possono andare male ho fatto già la live reaction a quello lo signore là che diceva che è tutto randomico come si chiama spaghetti io dico no non è randomico quindi tu vuoi un vantaggio statistico devi calcolartelo questo vantaggio stai parlando da uno che non sa un cazzo quindi stai sconsigliando il trading online non sapendone un cazzo e non dovresti permetterti però fai delle considerazioni anche intelligenti non dico che siano sbagliate alcune cose sono da tenere bene a mente però dovresti essere un po' più competente per parlare di queste cose ma poi perché sui guadagni da trading online ci paghi il 26 per cento di tasse si la top in cazzo vado un po' avanti lo sappiamo paghi le tasse ma non basta devi farti anche una pensione devi avere dei soldi da parte non è semplice da qualche euro non in realtà tutti i soldi che guadagni e quindi c'è una tassazione molto forte che è del 26 per cento sulle rendite finanziarie potremmo anche dire un'altra cosa che la leva è qualcosa di pericoloso all'inizio quindi queste leve alte ti aiutano a fare di più la scommessa e quindi farti del male per esempio magari uno l'ha detto lo dico io un altro elemento per cui effettivamente bisogna essere con i piedi per terra molto prudenti prima di cominciare a fare trading online e noi trader stesso a qualcun altro che ci chiede dovremmo diffondere questo tipo di cultura cioè che il trading non è qualcosa che ops si fa così facendo un salto nel buio va bene però ha ragione su questi discorsi ha anche ragione purtroppo sono imprecisi che rende ancora più difficile guadagnare e che ti obbliga in un certo senso ad avere per poter avere uno stipendio ad aver investito e quindi scommettere un capitale elevato ok diciamocelo chiaro e tondo quello che dico anch'io se tu vuoi fare trading online di avere un capitale elevato sì essere capace e pensare di portarti a casa tutti i mesi tutti i sacrosanti mesi dell'anno uno stipendio di almeno 2000 euro al mese e poi se riesci a ricapitalizzare qualcos'altro qualcos'altro quindi al netto delle tasse al netto di tutto al netto del tuo fondo pensione questi sono i conti da fare se poi riesci a pensare a qualcos'altro puoi ricapitalizzare ma attenzione non è facile eh non è facile questi sono i conti giusti quindi va bene e quindi molte persone questa cosa non te la dicono quando fanno quei video, quei corsi online ha ragione, ha ragione molte, non tutte, molte non te le dicono le sto dicendo io in questa live reaction per guadagnare con il trading e tu sei pronto a scommettere 50.000 euro scommettere è un termine che non dovresti usare il trading è una scommessa fino a un certo punto hai un vantaggio statistico molto di più che al casino euro che magari sono tutti i soldi che hai risparmiato negli ultimi x anni ok stai attento bene a come investi i tuoi soldi non usarli tutti, benissimo però vabbè un discorso un po' generalista vado avanti leggermente tutto il giorno forse può essere più interessante investire quel denaro nella tua formazione e poi andare a fare un lavoro normale no, 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 no questo è sbagliato il rischio di impresa in un lavoro normale nel trading online nel momento in cui tu sei preparato preparato tecnicamente preparato mentalmente allenato sul meccanico sul grafico e tutto quanto ha meno rischi che un lavoro normale ti dirò anche di più tu una cosa che non hai detto con tutta la cultura l'informazione che c'è sul trading online i mercati finanziari rispetto a tutto il resto è ciò che di più prevedibile ci sia le maggiori menti matematiche ci hanno pensato a questa cosa e hanno divulgato il modo di interpretare i grafici quindi rispetto che ne so se nei prossimi dieci minuti entra mia moglie in casa o il trading online è più sicuro il trading online è più prevedibile hai più vantaggi sapendo le cose quindi no andiamo avanti un po' avere dei vantaggi poi quando sarai anziano cosa che invece se fai il trading online ti devi costruire da solo l'ho detto anche io prima devi passare a un fondo pensionistico se no te lo prendi nel culo andare a fare un lavoro di un altro tipo piuttosto che rischiare 50.000 euro ma fare un lavoro di un altro tipo ok le cifre si sa quali sono le pensioni sono quelle che sono certo qualcosa nel quale il 90% delle persone che ci gioca perde i soldi no ecco vedi questo qua vuoi sconsigliare fare trading online ci giochi il gioco in borsa sono termini sbagliati chi è un trader non parlerà mai in questo modo ok tu operi in borsa investi in borsa ok non giochi in borsa anche se poi dal certo punto di vista è un gioco è un gioco con i suoi rischi di perdere il denaro e anche tanto soprattutto se ti fai pigliare un po' la la scimmia come si suol dire quindi no non va bene questa terminologia vado un po' avanti economica circa metodi per guadagnare in maniera semplice veloce senza competenze perché di solito ci viene raccontato esatto questo ha ragione su questo che viene promosso il modo di guadagnare semplice veloce senza competente non fatti incantare da questa gente che dice una roba del genere perché sono cazzate perché per fare trading online basta aprire un conto puoi farlo da casa e sotto intendono il fatto che non ci vogliono competenze anche se poi magari buttano lì in una frase ci vogliono competenze e sono anche molto complesse da applicare senza allenamento esercizio un po' come quando impari la matematica non fa niente in un disclaimer attenzione è vero il disclaimer lo metto anch'io ma non serve un cazzo è molto pericoloso perché la gente sa tanto desiderare ma ha pochi obiettivi bisogna studiare molto ma poi ti fanno credere che puoi farlo tra le righe senza competenze perché in questo particolare momento storico sì e soprattutto molta gente non si vuole abituare a pensare con la sua testa sono d'accordo anch'io su questo anzi voglio copiare da quelli bravi qualcosa che gli fa guagliare in fretta questo la dice lunga ha ragione quindi persone quando c'è crisi hanno bisogno di soldi hanno bisogno di denaro non trovano lavoro e quindi si buttano su quelle attività che vengono spacciate come facili come facile guadagno da casa senza competenti ma beh non è facile ovviamente non è facile per niente basta mettere mille euro e vedi che te li fotti come hanno fatto tutti quando non è iniziato e quindi poi il trading online diventa una di queste attività e quindi chi ne parla chi ne parla chi vi consiglia con dei corsi ad esempio gratuiti o pagamento che siano con degli articoli con dei video di fare trading online lo fa perché ha un tornaconto personale forte va bene d'accordo ma non puoi fare di un filo d'erba un fascio ci sono persone oneste e ci sono truffatori al mondo bisogna stare molto attenti a chi ci si rivolge è chiaro che un discorso del genere si sta riferendo solo ai truffatori quelli che hanno un loro tornaconto e se tu perdi o guadagni non gliene frega un cazzo ma non è tutto così io per esempio faccio tutto gratis e cerco di diffondere cultura in materia quindi non è tutto così ovviamente vedi un po' te no? ...parti in questo momento perché vado parlando bene e visualizzate al mondo del trading online quindi sapete che quando si parla di questo argomento poi appaiono delle pubblicità inerenti a questo vabbè pubblicità ok hanno una percentuale molto importante perché le persone sono disposte a metterci dei capitali anche grossi e perché poi le persone si fanno prendere appunto dalla paura di perdere denaro di aver perso tutto quindi investono altri capitali e tu prendi ancora altri guadagni vabbè stiamo parlando dei fuffaroli quelli che sanno che comunque le persone perderanno e tu invece ti arricchisci va bene te arricchisci fino a un certo punto perché le affilazioni non è che pagano tantissimo rispetto a quello che uno può perdere boh vabbè un discorso secondo me un po' così di contorno non gli darei tanto peso difficoltà delle persone gli sciacalli i peggiori sciacalli si buttano a parlare di argomenti di cui magari non hanno mai parlato che sono il trading online si appunto ancora stesso discorso i truffatori ripete vado avanti un po' è bonito allora cosa conviene invece fare cosa conviene fare conviene capire che c'è una differenza importante tra fare trading online e investire ok trading online e investire sono due cose completamente diverse il trading è speculazione quindi stai scommettendo ad altissimo rischio l'investimento è invece un depositare i soldi in forme di investimento come possono essere ad esempio gli etf che sono dei no no i rischi ci sono comunque è vero il trading è più vicino alla scommessa ripeto stessa cosa di prima scommessa nel momento in cui sei impreparato e non sei esercitato e non sei stato seguito e ti butti nella vasca con gli squali va bene ma non è così i rischi ci sono sia nell'investimento a lungo termine che nel trading online allora se l'investimento a lungo termine tendenzialmente sale sempre nel tempo questo non è detto che il tempo non sia finito chi te lo dice dove sta scritto ok è il discorso che fanno le banche poi intanto se i clienti perdono eh no ma tieni oppure medi le posizioni per poi dopo cercare di chiudere a zero perché è capitato queste situazioni qua è un discorso sbagliato io dico di no anzi ripeto di no no come fa Sgarbi no 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 capra 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 no no i panieri di azioni che replicano degli indici o provano a replicare i rischi ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono no no capra capra non è vero non è vero non è vero conosco gente che ha investito e si è trovata con le pezze al culo lo stesso no che poi dopo tu dici e poi deve essere tutto sotto leva leva uno lasciamo perdere se questo punto di vista qua anzi scommetti sulla tua formazione sulle tue capacità e sulla tua tenacia e forse ce la fai non pensare subito a grandi cifre e siamo d'accordo pensa a fare un percorso progressivo eh l'investimento ha i suoi rischi quanto la speculazione è nuda e cruda quindi discorso sbagliato l'andamento di indici che sulla lunga distanza danno la ragionevole certezza di avere un guadillo ragionevole certezza lo dici tu dove sta scritta sta certezza di sta minchia non è vero non è vero non è vero dagno ad esempio se invece di fare trading online negli ultimi dieci anni voi aveste messo il vostro capitale sentiamo allora coi se e coi ma ci posso pulire il culo perché coi se e coi se sui dati già passati che cazzo vuol dire non c'è garanzia di nessun tipo non diciamo cazzate non diciamo cazzate anzi è molto più intelligente scommettere su te stesso sulla tua capacità di fare quello che vedi non diciamo cazzate piuttosto un investitore non sa di trading non è un grande competente può leggere due notizie sul giornale è un discorso che non è paragonabile da questo punto di vista un investitore mette dei soldi invidia sta andando bene proviamo e scommetto i prossimi tre anni va bene potrebbe salire di quanto non si sa è un modo di ragionare a mio parere dove è più invece più serio il trading online con le opportune competenze che avere delle competenze evidentemente non è per tutti è difficile ci vuole studio preparazione dedizione fatica stai facendo di un filo d'erba un fascio e non va bene vado avanti un po' dal inizio anno dei mercati avreste fatto un più 50% eh vabbè vaffanculo col senno di poi anche a vincere il bietto della lotteria avreste fatto i milioni che schifo senza prendervi il rischio dell'operatività giornaliera sul trading online quindi ragazzi fare trading online è un'assurdità è un rischio ok ha praticamente finito dicendo è un'assurdità fare trading online allora adesso ti parlo un trader caro amico mio allora facciamo una recapitulazione un po' di tutto ha detto delle cose molto intelligenti la difficoltà dovete sapere prima di aprire un conto di trading che ci vogliono delle competenze da paura io dico nei miei corsi bisogna diventare il Giovanni Verga del trading non pensare che fate un conto da 2000 euro e fate i soldi queste sono minchiate del cazzo da popolino stupido ignorante non sono ragionamenti infattibili poi dovete avere degli obiettivi quanto vi serve a voi per vivere io penso che se voi volete vivere di trading almeno se non vi portate a casa 2000 euro tutti i mesi non ne vale la pena quanto vi serve per fare 2000 euro al mese e che obiettivi avete qual è il vostro ventaglio temporale quali sono gli obiettivi percorribili potete farli da subito ovviamente no se lui di tutte queste cose fa un calderone un minestrone di cose è chiaro che consiglia fare trading online questo discorso iniziale il discorso iniziale che ha fatto a proposito del fatto che il 95% dei trader perdente o il 90% che lui ha detto comunque si siamo sul 95% è vero io penso che siano perché sono impreparati ritengo inoltre che dovrebbe pensare di più appunto a quanto uno è preparato è allenato è concentrato su quello che si fa quindi su questo ha ragione è più probabile che comunque tu sia un perdente sul trading online ha ragione ma è sbagliato il punto di partenza cioè non parla di preparazione seria altra cosa che dovrei considerare di quello che dice è il fatto che è un lavoro lui dice è un lavoro si fa fatica dice che devi stare tutto il giorno sul computer io penso di no ma ha ragione sul fatto che è un lavoro quindi concludendo questa è la mia reazione penso che non ha detto le cose di uno che le capisce ma ha detto delle cose un po' sparate approssimative alcune giuste comunque finindo se volete iscrivervi al canale non me ne fate un cazzo se volete lasciare il like non me ne fate un cazzo ma se lasciate un commento io lo leggerò se pensate che dico cazzate cambiate canale andate da un'altra parte siamo amici come prima ciao